20 compagnie teatrali, 7 anteprime nazionali per una primavera dei teatri decisamente memorabile. Un vero e proprio viaggio attraverso la scena contemporanea che passa anche da Trapanaterra, lo specchio di un sud e la sua eterna battaglia tra radici e modernità come due fratelli che sulla scena si rincorrono e si combattono, si fondono e si tritano in una macchina che prende il centro del palco incarnando un reale personaggio. In questo spettacolo c'è tanta maledizione. Io da quando ho iniziato a lavorare a questo progetto, poi anche con Mario, è stata anche una sofferenza, però una sofferenza che a un certo punto mi ha fatto anche bene, esorcizzare alcuni demoni che mi portavo dentro. Abbiamo iniziato questo lavoro quando eravamo entrambi fuori sede e ce lo siamo portati dietro con noi, ovviamente facendo anche poi a un certo punto percorsi diversi. Io mi sono andato più alla drammaturgia, lui invece alla musica, però abbiamo frequentato l'Accademia Assieme a Roma e da lì è nata un po' l'esigenza e lo stimolo di lavorare su un qualcosa che appartiene a entrambi, ovvero il, tra virgolette, fuggire e il ritornare. Ci siamo posti un sacco di domande, io mi sono posto un sacco di domande e tuttora non mi sono dato delle risposte, ma anche quello che poi cerco di fare nei miei lavori quando scrivo, di sollevare delle domande, non sono io a dare delle risposte, non sono nessuno per dare delle risposte. Quindi colpire il pubblico e cercando di far portare un po' a casa quello che accade sul palco. Come avete trovato il pubblico di questa sera e in generale il pubblico ogni volta che portate in scena questo spettacolo che fondamentalmente è l'unione di due arti, ognuno appartenente al vostro mondo, come trovate la vostra partecipazione al Primavera dei Teatri? Il pubblico è sempre una sorta di gratte e vinci, nel senso che ci sono volte che magari non senti risate, non senti niente, silenzio totale, poi esci fuori e è piaciuto tanto. Quindi stasera devo dire che è stato molto partecipato, quindi siamo contenti. Una grande accoglienza e poi ho anche una forte emozione essere in un festival importante, considerando che noi ci siamo autoprodotti dall'inizio, quindi questa è tutta un'autoproduzione, anche la struttura che avete visto in scena ce la siamo costruita noi. A proposito di questo, infatti la struttura è estremamente complessa da un punto di vista di uno spettatore, L'avete costruita, ideata voi, e affinché rappresentasse cosa? Un antagonista. Io ho sempre detto che nell'uno e nell'altro siamo stati dei veri e propri antagonisti o protagonisti, però questa struttura per me rappresenta un personaggio vero e proprio, e dall'inizio, confrontandoci, ci siamo detti che questa struttura deve parlare, deve rispondere alle nostre battute, come? Attraverso la cosa che ci unisce, la musica, e quindi anche lavorare dal punto di vista drammaturgico sotto il profilo strumentale e musicale, quindi l'elettronica, il metallico che si va in contrasto con il dolce, la tradizione, l'organetto, e cercare un connubio, quindi anche qui la musica e la struttura hanno svolto un ruolo molto importante, nel senso che è stata un'unione, ma anche di staccarsi, una realtà, il reale e l'irreale, quindi l'onirico e il presente, il reale. Anche per questa struttura ci abbiamo messo un po' di tempo per elaborarla, considerando che abbiamo iniziato a fare dei prototipi con delle cannucce, e poi l'abbiamo realizzato in alluminio e metallo. Un'ultima domanda, quanto è stato coraggioso portare in scena uno spettacolo del genere di questi tempi? È stato coraggioso perché... Una follia. Sì, nel senso, io quello che pensavo qualche tempo fa è che, ok, si ferma tutto, forse è un'occasione per restare a pensare, fermiamoci tutti per un periodo così, però adesso penso che sia stato giusto e necessario, e che noi piccoli in realtà abbiamo l'opportunità di crescere anche confrontandoci. Confrontandoci, abbiamo tanto bisogno. Sì, è stata un po' una follia, anche considerando che siamo svegli ormai da 16 ore. Sì, però l'adrenalina era tanta e ci tenevamo, insomma, a donarci, a donare questo racconto al pubblico che è venuto qui stasera e a voi.